Non è certo una novità la presenza della Gimet Brass con l'Arezzo. La scritta della nota azienda comparirà nelle maniche della maglia Maranto e si accompagnerà a quelle di 1R Novarte. Rolando Nardis, che è uno dei titolari dell'azienda, è un grande tifoso dell'Arezzo. Non è un caso che ci sia stato anche ai tempi di vacche magre. La conferma diventa un segnale di grande rilievo che merita una considerazione speciale. A noi abbiamo aiutato l'Arezzo anche nei momenti difficili di cui non si capiva assolutamente niente e questo l'abbiamo fatto per la nostra aritinità. Uno zio è stato dirigente a suo tempo dell'Arezzo, della vecchia unione sportiva Arezzo e anche loro ancora conservano un po' il DNA di questo amore verso l'Arezzo. A me fa immensamente piacere che Gimet quest'anno è ancora una volta sponsor ma la cosa che fa più piacere è che abbiamo legato sulla maglia dell'Arezzo tre nominativi importanti di produttori aretini e questo per me aretino è un orgoglio.